Ciao amici, allora con questa piccola nuova serie di video fantasticosa e mozzafiatanti affronteremo vari temi del giocare i giochi di ruolo e del cercare di migliorare il gioco di ruolo, ma non dal punto di vista magari dell'idea geniale del rendere il combattimento più interessante, del rendere, interpretare meglio un personaggio, ma proprio del rendere il gioco, perché ricordiamoci essere un gioco, più fluido a qualsiasi livello e con qualsiasi ambizione per il vostro futuro ruolistico, quindi che voi siate Matthew Mercer o che siate me, utilizzando gli esercizi che vi darò un po' come se fosse una fisioterapia del gioco di ruolo, diciamo così, infatti ho deciso di chiamarla aerobica del gioco di ruolo, potrete migliorare vari aspetti, sia vostri che del vostro gruppo di gioco, che è una cosa molto importante. Il primo aspetto che andiamo a trattare in questo piccolo piccolo corso è la coerenza di gruppo, cioè quella situazione nella quale qualcuno dice qualcosa ma nessuno interessa. Ok? Cioè io ho una mia storia personale, del mio personaggio, ma quando cerco di tirarla fuori non sembra interessare a nessuno e quindi quella storia viene immediatamente bloccata. Ricordandoci che il gioco di ruolo è sostanzialmente, non è la storia raccontata da un narratore, ma è la storia che nasce al tavolo, ok? Cioè, le azioni di tutte le persone, il modo in cui vengono narrate queste azioni, i giocatori, ovviamente, il modo in cui vengono narrati, le interazioni tra queste storie sono la storia effettiva, non la trama dell'avventura. Quello è un'ottima storia se scrivi un libro, ma il gioco di ruolo, appunto, non è un libro e non funziona come un libro. Quindi ricapitolando, qualsiasi livello, se pensate che il vostro gruppo può avere questo tipo di problema, condividetegli questo video. L'esercizio, che potremmo chiamare l'esercizio delle parole chiave, si fonda così. Provatelo e ditemi se ha migliorato la vostra esperienza. Ovviamente, lo usate, lo potete usare proprio come esercizio, cioè, vi mettete d'accordo, dite, ok, ci impegniamo in questa sessione a fare questa cosa qui. Dopodiché, non mi interessa più, non mi piace, non ha servito a niente, oppure ha raggiunto il suo scopo, non è che dovete forzarlo per sempre. Lo usate quanto ritenete necessario. Esercizio delle parole chiave. Qualcuno fa una descrizione di qualcosa, perché di solito, appunto, si descrivono delle situazioni. Può essere il master che descrive un nemico, può essere un giocatore che descrive se stesso, può essere un giocatore che descrive un suo ricordo, che descrive una cosa che vede con i suoi occhi in base al tipo di autorità narrativa che c'è all'interno del gioco, comunque sia poco importante. Nel momento in cui questa persona descrive la situazione, che poi il mio consiglio, che poi è anche il consiglio di Matthew Mercer, è usare al massimo tre aggettivi per descriverlo, e magari può essere, diciamo, un aggettivo sensoriale, cioè un rumore che provoca, un odore che provoca, il colore che ha, il calore che emana, uno, diciamo, uno barra due, e una invece di sensazione, di emozione che ti suscita. Ok? Viene utilizzata questa parola, e gli altri giocatori, invece di ignorare questa parola, cosa che accade di solito, ad esempio, io ti dico, davanti a te, vedi, dalla terra alzarsi questo essere verde, viscido, puzzolente, che piano piano si mette in ginocchio, alza un braccio, e lo tende verso di te. Ecco, a questo punto il giocatore, invece di dire, stai gran cazzi di quello che mi hai detto, cioè di quali sono le sue caratteristiche, il giocatore si deve concentrare su una di queste caratteristiche, e sfruttarla all'interno della sua reazione. E tu dici, il viscido sul suo braccio mi cola sulle mani. Io tento di afferrarlo, magari lancio un dado, e in base al risultato che ottiene, che ne so, fallisce. Il viscido del suo braccio fa scivolare la mia mano, e ora mi trovo così, davanti a questo essere immondo, completamente impotente. Che storia triste. Niente, quindi il principio è questo, adesso lo potete applicare come volete, questa era un'applicazione molto banale, ma applicatela in qualsiasi genere che state giocando, e proprio tutti i giocatori si devono impegnare a sfruttare ogni cosa che viene detta al tavolo, che sono le cose che poi possono arricchire il gioco. Spero di essere stato chiaro, fatemi sapere se utilizzate questo metodo, se l'avete utilizzato, se vi serve a qualcosa. Noi ci vedremo una prossima volta, magari parlando di invece improvvisazione. Arrivederci. Grazie.